Ah, che bello. La mia ultima notte in questa casa. E sei molto felice, vero? Moltissimo, non sai quanto. Per tutta la vita ho cercato di staccarmi da te e domani finalmente lo farò. Sono molto contenta. Non fare quella faccia, perché anche tu sei molto felice che ti lasci in pace. Il papà di Nicolas sa dell'assegno. Non lo sapeva? Smettila di fare dell'ironia, Bianca. La faccenda è molto seria. È colpa tua. Hai voluto mercanteggiare tua figlia alle tue condizioni. E ora quest'affare ti è andato male. Anche tu? Per poco stavi per perdere tutto. Ariel mi ha raccontato del contratto prematrimoniale. Un contratto che avrai firmato senza alcun problema. Perché io sposerò Ariel non per i soldi, ma perché lo amo. Una cosa che tu non puoi capire. No, quella che non capisce. Che siamo sul punto di perdere questa casa? Sei tu. La perderai tu, signora Flavia, perché io ne avrò una più grande.